Bella Nova, le voglio chiedere una cosa, perché sono ora molto difficili dal punto di vista politico, ma anche dal punto di vista della realtà. Per esempio, mi dicevano adesso i miei autori che domani c'era un decreto legge sulla proroga dello strato di emergenza che se no scadrebbe il 31 gennaio. Voi lo votate, perché abbiamo delle cose molto urgenti da fare. Per adesso il Consiglio dei Ministri che è stato convocato è quello per il Covid. Se stasera ci saranno altri punti all'ordine del giorno, assumeremo la nostra responsabilità sulle questioni che condividiamo, come abbiamo fatto lealmente in questo anno. Perché molti ci tengono a darci l'etichetta di chi ha posto problemi. E direi meno male che abbiamo posto problemi perché abbiamo aiutato tutti a fare meglio. Quindi scusi, non ha la valigia pronta sotto la scrivania lei in questo momento? Guardi, glielo dico con molta franchezza. Io vado in Consiglio dei Ministri a fare il mio dovere istituzionale per mettere al riparo da convinti europeisti quali siamo le risorse europee. Sono convinta della battaglia che ho fatto perché non sono state tirate per i capelli. Ho fatto una battaglia che condividevo. Non sono una persona, per la mia storia personale, per il mio modo di essere, non sono una persona che è abituata a tirare a campare. Se ci saranno le condizioni, se Conte ascolterà quella parte dei colleghi che lo invitano a ragionare, seppure non lo dicono pubblicamente, ma tanti lo consigliano privatamente di mettersi a lavorare seriamente e adempiere al suo dovere di costruttore del programma della coalizione, e allora noi ci siamo. Se è Conte per continuare a dare ascolto a travaglio, allora io non ho bisogno di stare in questa postazione. Perché il galleggiamento non è quello che serve, non a me, alla mia forza politica. Il galleggiamento non serve ed è dannoso a questo Paese. Ok, quindi se Conte ascolta voi ci siete, se no no, contando sul fatto, se ho capito bene, che voi vi siete molto esposti, ma che c'è molto malessere anche tra i suoi colleghi di governo. Ho capito bene? Noi ci siamo esposti, ma ci siamo esposti perché si vuole fare questo racconto perché viene più comodo per tutti. Che abbiamo chiesto postazioni, che abbiamo fatto guerriglia per avere più potere. Abbiamo semplicemente posto questioni che devono essere risolte. Perché con il galleggiamento, con l'immobilismo, non si governa un Paese importante come l'Italia. Allora, grazie Ministra. Questo Paese non può avere solo DPCM e decreti legge di emergenza. Questo Paese ha bisogno di intravedere il futuro e su questo noi vogliamo continuare a dare il nostro contributo. Dalla postazione in cui ci sarà utile farlo. Sicuramente non sarà per tenere una sedia e non essere assolutamente utili a risolvere le questioni che riguardano i cittadini e le cittadini italiane. Chiedo, vai in realtà.